Numeri e dati dei servizi a domicilio per i nonni della comunità Valsugana e Tesino. Qualcosa come 27.000 pasti, tutti consegnati a domicilio nel corso del 2021 a 155 persone anziane e bisognose residenti nella comunità Valsugana e Tesino. Parliamo del servizio dei pasti a domicilio, una prestazione erogata soprattutto agli uomini. Non solo pasti consegnati, anche scodellati, è un momento in cui l'operatore si relaziona con la persona e contribuisce a monitorarne la situazione. Lo scorso anno l'ente, tramite il servizio sociale, ha gestito anche il servizio di lavanderia a domicilio, con 315 accessi e 10 richiedenti. Capitolo teleseccorso e telecontrollo. Nel 2021 hanno usufruito del servizio, erogato in collaborazione con la comunità della Vallagarina, 29 persone. In caso di necessità possono comunicare in viva voce con l'operatore, che può intervenire rapidamente in aiuto, attivando se necessario tutti i soccorsi idonei e del caso.